Buongiorno e bentrovati. Appuntamento di mercoledì 7 dicembre con Mattino 6, oggi è Sant'Ambrogio, vescovo e dottore della chiesa, tra l'altro patrono della città di Milano. Noi apriamo la nostra rassegna stampa come sempre con le prime pagine dei giornali, partiamo dai quotidiani della nostra regione, dalle prime quattro edizioni del centro. Iniziamo con l'edizione di Pescara del quotidiano d'Abruzzo, in questo caso il titolo principale come anche per le altre edizioni riguarda la politica, politica regionale. D'Alfonso parla il governatore, ecco la mia grande riforma, taglia i costi della politica e nuova legge elettorale, risponde il Movimento 5 Stelle che dice proposta irricevibile. E poi i terremotati alla prima della scala di Milano, si apre proprio oggi nella giornata del patrono, dicevamo Sant'Ambrogio, la prima alla scala e ci saranno i terremotati come ospiti speciali di questa prima al teatro Meneghino. E poi le cronache, in questo caso le cronache da Pescara e provincia, partiamo da Pescar, la cronaca palpeggia bimba al parco giochi arrestato 51enne, poi sempre cronaca arrivano i RIS nella casa dell'omicidio dove venerdì scorso è stata uccisa la 26enne Jennifer Sterlecchini, poi Francavilla al mare, il sindaco Luciani rilancia, demoliremo Palazzo Sirena. E poi il lungo addio a Mohamed, cristiani e musulmani piangono il ragazzo venuto dall'Africa accolto e assistito da una famiglia pescarese, questo ragazzo scomparso. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara, andiamo a vedere l'edizione di Chieti, in questo caso il titolo principale è sempre quello riguardo la politica regionale, vediamo però altri titoli invece che riguardano Chieti e la provincia, ex Carichieti, amministratore delegato indagato per immordino, ipotizzata la violazione della legge fallimentare. E poi San Martino, operaio 29enne, perde il braccio sotto la pressa, avvasto 5 donne truffate da falsi militari americani, a Lanciano acqua, servono 200 milioni per le nuove reti. E poi a Chieti, a rischio la scuola di Gozzetti, la chirurgia del policlinico perde il primario universitario. E poi Canosa Sannita, Dio Flacco, imprenditore e segretario di Natali. Lasciamo l'edizione di Chieti del centro, andiamo a vedere quella di Teramo, vediamo anche in questo caso i titoli delle cronache, terremoto spese per gli sfollati oltre un milione al mese e poi vertenze, l'Atria guarda all'estero, incertezza lavoro e poi tasse arretrate. Beccaceci deve dare al comune di Giulianova, in questo caso 350 mila euro, come leggiamo in questo articolo. E poi l'investimento, vedete in basso l'investimento, Scarpe Nox apre a Corropoli, il marchio inaugura un outlet e trasferisce la produzione. Poi l'evento ad Atri torna infatti la notte dei Faugni. E andiamo avanti ancora l'edizione del centro, l'edizione dell'Aquila, vediamo i titoli in questo caso che riguardano la zona proprio dell'Aquilano, emendamenti bloccati a rischio le casse municipali e poi all'Aquila ancora progetto case bolletene, il comune nei guai e poi canistro, tir Santa Croce, fermati, Colella, l'amministratore delegato, denunciato. E poi ad Avezzano, vedete in basso, sbarca il colosso McDonald, oggi l'apertura, 43 dipendenti. Si temono disagi al traffico e poi a Sulmona il Natale costa 30 mila euro, il cartellone presentato con 35 eventi. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto a Bruzzo del messaggero. Corruzione, giudice indagato dalle carte dell'inchiesta sul crack dell'imprenditore pescarese Carmine De Nicola, salta fuori il sospetto di tangenti al magistrato Marsella per pilotare un concordato. Questo è il titolo principale del messaggero nell'inserto a Bruzzo. Vediamo anche gli altri titoli. La causa contro il Movimento 5 Stelle, contro Pettinari, D'Alfonso dichiarazione negata. E poi l'ipotesi elezione fa scattare la corsa al seggio. Chiavaroli, D'Alessandro, Di Pangrazio, ecco chi spera in un posto al Parlamento. E poi l'imprenditore Napoleone al timone dell'organo, in questo caso un mancato sindaco, farà rinascere il CNEL. E poi vedete di spalla cartello per i tassi, banche condannate. E' arrivata questa sentenza. E poi in basso a Pescara la cronaca, bimba molestata, manette all'orco. Si tratta di un pescarese di 51 anni. Allora lasciamo per il momento i giornali regionali. Abbiamo visto le prime pagine delle quattro edizioni del centro e del messaggero. Andiamo a vedere invece i titoli dei principali quotidiani nazionali che troverete oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. Ovviamente tutti i titoli principali incentrati sulle imminenti dimissioni del Premier Renzi. Inconcepibile il voto subito. Alto là di Mattarella. Il Presidente della Repubblica dice prima cambiare la legge elettorale. Renzi, governo di responsabilità nazionale. E poi a centropagina la foto riparte dal centro la quarta volta di Angela Merkel, l'attuale primo ministro tedesco che si ricandiderà per la quarta volta per le prossime elezioni. E poi algoritmo anti-ISIS, la lotta ai terroristi dei giganti del web in questo articolo che troviamo oggi sul Corriere della Sera. Lasciamo il Corriere della Sera, siamo al quotidiano Repubblica. Mattarella ed il PD frenano Renzi. Pisapia, io pronto ad unire la sinistra. Parla l'ex sindaco di Milano. Vedete nella foto invece il Presidente della Repubblica, Mattarella, con il Premier Renzi. Poi c'è un articolo di Spalla, un editoriale, in cui si vede il titolo. Le élite imparino l'umiltà o trionferà il populismo. Lasciamo Repubblica, siamo al messaggero. Mattarella, no al voto subito. Il Quirinale a Renzi, inconcepibile prima della legge elettorale. Verdetto della consulta, il 24 gennaio. Sfida del Premier al PD, governo di responsabilità o elezioni. Oggi arriverà l'ok al manovra e venerdì ci saranno le dimissioni. E poi c'è anche una notizia che riguarda le banche. L'Unione Europea apre a interventi pubblici e la borsa vola a 4 più 1%. E poi lo sport, in questo caso il dopoderby di Roma, rissa nel derby. Stangata a Strotman, salterà Milan e Juve. Roma infuriata, scatta il ricorso. E siamo al giornale. Occhio al trucco, Renzi tenta l'inciucio per comandare ancora. Mattarella stoppa il voto anticipato. Ed il Premier propone un governissimo impossibile per restare in sella. E poi Franceschini, lui l'uomo che ha in mano il futuro di Matteo. Lotta dunque per la successione tutta interna al PD. Siamo al tempo di Roma. 30 miliardi di debiti e non passa la paura. Si parla della regione Lazio in bancarotta. Che botta della Corte dei Conti, ma Zingaretti esulta. Abbiamo evitato la catastrofe. Proseguiamo il fatto quotidiano. Renzi prende altre due sberre. Il Premier uscente è in stato confusionale. Si scrive il fatto quotidiano. Sul voto a febbraio perde la maggioranza. PD e Mattarella che impongono il governo istituzionale. E poi in basso, Rai, la lista dei 170 incarichi contestati, arriva a Cantone. Siamo all'unità. Renzi, governo istituzionale o il voto. Queste le condizioni del Premier che oggi, dopo il via libera alla manovra, salirà al colle per dimettersi. Siamo al quotidiano. La stampa di Torino. Elezioni. Mattarella frena Renzi. Un governo di tutti o subito al voto, dice il Presidente del Consiglio. Ma il Quirinale risponde inconcepibile, senza legge elettorale. Siamo al quotidiano. Il mattino. Renzi, Mattarella, braccio di ferro. Pressing del colle. Il Premier apre il governo di scopo, ma punta al voto. Manovra. Oggi la fiducia. In alto la Champions League. In questo caso, il mattino, essendo giornale di Napoli, punta proprio sul Napoli, sugli azzurri, che ieri sera hanno battuto il Benfica in trasferta a Lisbona per 2-1 e hanno chiuso al primo posto il girone. Ora Napoli, dunque, che si può concentrare sugli ottavi di finale. Libero. Mattarella lo vuole a Palazzo Chigi. Grasso che cola. Il Quirinale pensa al numero uno del Senato al posto di Matteo. Siamo al quotidiano avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Sul voto è già duello. Mattarella, inconcepibili elezioni con due sistemi. Renzi, governo istituzionale con tutti. O urne subito. Siamo al foglio. Vedete anche in questo caso il titolo principale riguarda il dopo referendum. O con Berlusconi o alle elezioni. Renzi passa la palla al Cavaliere per andare al voto. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Il PD va alla resa dei conti. Renzi, detta i tempi. Governo di responsabilità. Poi alle urne. Mattarella frena. Niente votazioni. Senza regole omogenee. Siamo al Gazzettino di Venezia. Elezioni subito. Il Quirinale frena. Mattarella inconcepibile. Votare senza legge elettorale. Renzi, l'abbiamo visto anche dagli altri quotidiani, risponde il governo di tutti o alle urne in anticipo. Siamo al secolo XIX. L'alto là di Mattarella. Vedete anche in questo caso il botta e risposta, se così lo possiamo chiamare, tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Siamo al quotidiano. La verità promessa da Marinaio. Le trame di Renzi per rimanere. Vuole che Gentiloni gli tenga caldo il posto. Pretende che non vengano toccati gli altri, fedelissimi al governo e nelle aziende pubbliche, e punta a elezioni subito. Con l'Italicum. Questo scrive il quotidiano La Verità. Emiliano si prepara a soffiare il PD al Premier Bull. Emiliano esponente della sinistra del Partito Democratico. E poi vedete a centropagina una notizia che riguarda, un titolo che riguarda la questione immigrati. Erdogan, il Presidente, Primo Ministro della Turchia, ci sta già riempiendo di pakistani. Siamo l'osservatore romano, il quotidiano della Santa Sede, che verte anche su questioni di carattere internazionale. Il titolo principale riguarda la guerra in Siria, nessuna tregua per Aleppo. E poi a centropagina, vedete, c'è un titolo, un articolo che riguarda invece il dopo referendum nel nostro paese. sempre più complesso, scrive l'osservatore romano, il quadro politico in Italia. Questo era l'ultimo giornale nazionale preso oggi in esame. Possiamo tornare ai quotidiani di casa nostra per andare a vedere subito le prime pagine di cronaca regionale e poi provinciale dal centro. Partiamo dal dopo voto anche nella nostra regione. D'Alfonso attacca, nuova legge elettorale e taglio delle indennità. Annuncio al centro all'indomani della sconfitta referendaria, ma le reazioni sono tutt'altro che positive, alle parole del Presidente della Regione. Movimento 5 Stelle dice proposte irricevibili. Marcozzi boccia il Presidente e sospiri Forza Italia. Vuole regole su misura per lui. Vedete in queste tre foto il capogruppo al Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcossi, il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Sospiri e l'esponente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo che ieri in conferenza stampa ha chiesto le dimissioni del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato proprio con Maurizio Acerbo. Acerbo, il dopo referendum vede tante polemiche, tante dichiarazioni, il dato dice che la prevalenza dei no è stata netta. Secondo lei ci potrà essere un risvolto in chiave abruzzese di questo referendum? Come ho commentato la notte delle elezioni, secondo me ci dovrebbe essere il Presidente D'Alfonso che ha abusato del suo ruolo istituzionale bombardando gli abruzzesi con la campagna per il sì, cosa piuttosto scorretta come il comportamento d'altronde di tanti altri amministratori e anche sindaci del PD, dovrebbe tirare le conseguenze e dimettersi. So ovviamente che non lo farà. Nonostante voglio ricordare, D'Alfonso ha scritto a tutti gli abruzzesi a tempestati di sms, telefonate, ha organizzato adunate da tutte le parti e in Abruzzo il sì ha preso meno della media nazionale quindi una sonora bocciatura di questa classe dirigente. D'Alfonso ovviamente non si rimetterà ma faccio notare che almeno dovrebbe con coerenza, parola che non gli è nota applicare quello che ha raccontato perché D'Alfonso si è presentato alle elezioni dicendo che come primo atto avrebbe ridotto lo stipendio dei consiglieri regionali e degli assessori regionali del suo a quello del sindaco della città capoluogo, l'Aquila. Non lo hanno fatto per due anni e mezzo e hanno anche chiesto il voto per il sì al referendum per realizzare un obiettivo per cui non c'è bisogno di modificare la Costituzione ma basta che voti il Consiglio regionale. Adesso D'Alfonso lo faccia per rispetto non solo di chi ha votato no ma soprattutto di quei malcapitati che continuano a dargli retta e hanno votato sì con un minimo di coerenza visto che lui è uno che combatte la casta si tagli finalmente lo stipendio e ponga fine allo scandalo dei doppi e tripli vitalizi. Cambiamo argomento parliamo di economia sempre dalle pagine del centro perché ieri sono stati resi noti i dati dell'indagine semestrale di Confindustria che aprono spiragli nell'economia regionale bene export ed occupazione vedete dal titolo frenata da investimenti e credito poi nella pagina successiva ci sono delle testimonianze il direttore della Dynamic Services Spoltore noi siamo cresciuti anche nei tempi bui il direttore generale della OMPA di Ortona qui teniamo botta e navighiamo a vista ieri ovviamente c'è stata la testimonianza soprattutto c'è stato il discorso del presidente regionale di Confindustria Agostino Ballone che ha fatto proprio il punto della situazione con questi numeri dell'indagine semestrale di Confindustria noi eravamo presenti con la nostra Francesca Romana Teste e andiamo a vedere il servizio Rapporto semestrale per Confindustria che dopo aver analizzato i dati di 200 aziende abruzzese dei diversi settori stila l'andamento medio da gennaio a giugno 2016 L'export è un dato assolutamente interessante abbiamo un incremento rispetto al semestre precedente di oltre il 5% quindi è un dato che dimostra la vitalità del sistema imprenditoriale abruzzese ma anche sul mercato interno abbiamo qualche dato positivo la cosa che ci soddisfa in qualche maniera è questo dei sistemi industriali avanzati penso all'agroalimentare che continua a conquistare mercati che continua ad esportare ma anche a conquistare mercati interi penso al farmaceutico ovviamente al noto comparto dell'automotive che continua la sua marcia Il mercato globale mostra un rallentamento della crescita i dati regionali mostrano difficoltà ad ottenere investimenti sul territorio e resta ancora complicato l'accesso al credito per la micro-impresa e la piccola impresa Il problema centrale che noi abbiamo di fronte in questo momento è a chi destinare le risorse che sono sempre scarse rispetto agli obiettivi se destinarle per accelerare il processo innovativo oppure viceversa per destinarle a un processo infrastrutturale io credo che il nodo centrale della nostra regione sia quello innovativo perché la presenza di tantissime piccole imprese che stanno solo e soltanto sul mercato interno impedisce che ci sia un fenomeno innovativo di portata sistemica in generale Andiamo avanti siamo alle pagine della cronaca provinciale del centro partiamo da Pescara e in questo caso dalla cronaca nera infanzia rubata palpeggia bimba al parco mamma lo fa arrestare un amico di famiglia aveva accompagnato la piccola di dieci anni a giocare nell'area alle spalle del complesso Lenaiadi ma una donna, visto tutto, è denunciato in basso vedete esemplare il senso civico della cittadina il capo della mobile di Pescara per Francesco Muriana ha proprio elogiato il coraggio di questa donna che ha bloccato in un certo senso questo 51enne mettendosi ad urlare e facendolo scappare troppi casi simili parla la psicologa Catapane attenti al cambio di comportamenti più avanti vedremo nella seconda parte il servizio proprio sulla conferenza stampa che si è tenuta ieri in questura su questa vicenda andiamo ancora avanti ancora cronaca sempre da Pescara l'omicidio di Jennifer Rissa caccia di prove nella casa del delitto i carabinieri del reparto scientifico di Roma entrano nella villetta per ricostruire la dinamica dell'assassinio oggi ci sarà l'autopsia sul corpo della 26enne uccise poi ancora cronaca in questo caso giudiziaria il crack de Nicola sbarca in aula e scontro fra procura e avvocati e poi chiusa dal Nasse pasticceria sporca a Pescara poi vedete in via del concilio topo morto davanti la scuola di via del concilio a Pescara e poi il progetto contestato viale Pindaro pedonale e la morte per i negozi Confcommercio pronta la raccolta di firme contro la cittadella universitaria che dovrebbe estendersi frino al parco ex di Cocco e poi alla Cerbo e al Media Museum la storia di Sacco e Vanzetti film e dibattito sui due emigranti e poi il consiglio comunale nuovi orari per i servizi pubblici istituita la consulta che predisporrà le regole con enti e associazioni e poi in basso il concorso Giovani Idee Mantone i ragazzi indicano la via per l'impegno sociale e poi parliamo di solidarietà la storia di Mohamed accolto dai pescaresi questo giovane immigrato morto a soli 19 anni era arrivato nel 2015 in gommone dalla costa d'Avorio ai funerali musulmani e cattolici hanno pianto insieme per la prematura scomparsa di questo giovane immigrato che era venuto in cerca di lavoro e di solidarietà proprio nella nostra città e a proposito di solidarietà ieri c'è stata un'altra importante testimonianza in questo caso da parte dell'arma dei carabinieri del comando provinciale di Pescara il Blitz se così lo vogliamo chiamare nel centro trasfusionale dell'ospedale civile c'è stata questa donazione di sangue nel nome del maresciallo i carabinieri hanno ricordato Gian Paolo Pace il maresciallo dell'arma morto ad Accumoli nel terremoto del 24 agosto proseguiamo sempre dalle pagine di Pescara in questo caso dall'area metropolitana partiamo in alto da Scafa la Sama riparte con 20 addetti sul Bura il bollettino ufficiale della regione il bando per affidare l'impianto chiuso con l'Ital Cementi e poi Francavilla si parla della Sirena Gianni non si ferma il sindaco va avanti in arrivo il piano per demolire lo storico palazzo dice il sindaco al comitato valuteremo ogni ipotesi alternativa ma l'edificio non ha valore sono stato scelto per decidere e poi in basso San Giovanni Teatino furti nelle case petizione online corre sul web la paura dei ladri e una residente si mobilita contro i soliti ignoti e siamo alla pagina di Montesilvano del centro traffico e inquinamento aumentano i controlli il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno chiede una centralina inarta per la zona di Santa Filomena e poi ex case parcheggio danneggiate a Cappelle sul Tavo proteste dei titolari poi tornando a Montesilvano obesità martedì incontro con la diabetologa di Petta e poi andiamo ancora avanti sempre da Montesilvano più automazione meno occasioni di lavoro gli studenti dell'Alessandrini a confronto con sindacati e innovatori sul fenomeno robotomia proseguiamo siamo alla pagina che riguarda ancora la provincia di Pescara ancora a Montesilvano gli appuntamenti del 31 dicembre al Palacongressi di Montesilvano la festa di Capodanno sarà con gli alieni spoltore un mese di concerti mostre e tombolate da domani al via un cartellone con 20 rassegni a cura dell'associazione Fontevecchia è sempre domani ma a Pianella si accende l'albero più alto nuove luci brilleranno a Pianella grazie ad un cedro di 20 metri e siamo nell'area vestina a Penne in particolare 3 milioni di euro per il Duomo e l'annunziata fondi del Ministero a Penne Ferrante lavori già nel 2017 dice il Vice Sindaco le due chiese hanno lesioni vecchie e danni per il terremoto bussi sul Tirino escursioni a caccia di lupi con il Bosso e poi a Popoli torna il mercatino natalizio degli artigiani Villa Celiera fuoristrada sulla pista da sci infine San Valentino in Abruzzo Citeriori ragazzi vincitori del premio di Venanzio lasciamo Pescara e la provincia siamo a Chieti in che inchiesta ex Carichieti indagato l'amministratore delegato in Mordino il PM ipotizza la violazione della legge fallimentare nel periodo di commissariamento e poi in basso a basto la truffa su Facebook dei falsi militari USA 5 donne conquistate con promesse d'amore hanno sborsato 50 mila euro per farli trasferire e poi ancora seconda pagina della cronaca di Chieti sul quotidiano il centro il caso al policlinico la nomina contestata ospedale rischia di sparire la grande scuola di Gozzetti Università e Asle scelgono come nuovo primario l'ospedaliero di Sebastiano prende il posto del docente innocenti ma il collegio dei professori di chirurgia dice no in alto si parla di università il rettore perde le staffe in Senato passano tra le scintille il bilancio d'Ateneo ed il piano delle opere pescaresi si legge in questo articolo e poi in basso siamo nell'area frentana Paglieta la fabbrica dei camper raddoppia Trigno van inaugura il nuovo stabilimento gli operai passano a 150 siamo arrivati alle pagine dell'Aquila del centro ma dobbiamo fermarci per qualche istante andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo per la giornata di oggi e per le prossime ore con Luca Menella poi torneremo come sempre in studio per la seconda parte di mattino 6 seconda parte di mattino 6 eravamo alle pagine della cronaca dell'Aquila della provincia su il quotidiano il centro vediamo dunque il titolo principale che ci porta nella marsica perché inizia l'era del McDonald questa la novità in particolare di Avezzano apertura alle 17 i posti di lavoro sono saliti a 43 si temono disagi per la viabilità proprio per questo pomeriggio quando ci sarà l'inaugurazione della nuova attività e un presumibile afflusso di clienti e poi in basso vicenda Santa Croce i carabinieri bloccano un tir ancora attenzioni a Canistro indagini per accertare se il carico di acqua era finito sotto sequestro ancora cronaca dall'Aquila in questo caso social network offese su Facebook parola al giudice richiesta di un legale vogliamo sapere dalla società di Palo Alto che ha diffamato due miei assistiti in periodo elettorale e dunque si cercherà di capire da dove arrivano queste offese e poi per quanto riguarda il lavoro vertenza dei call center i lavoratori hanno incontrato nelle ultime ore il presidente del consiglio regionale d'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio andiamo avanti siamo a Teramo i CIMU non pagate dalle società beccaceci deve 350 mila euro e quanto chiesto leggiamo qui dal centro dal comune di Giulianova per l'intervento sull'ex Sadam l'impresa ricorre in Cassazione per tentare di ribaltare i pronunciamenti delle commissioni tributarie provinciale e regionale e poi Giulianova per gli eventi natalizi solo 8 mila euro dal comune e poi una notizia che riguarda l'imprenditoria perché lascia la capitale delle scarpe e sbarca a Corropoli l'imprenditore Olivieri apre un outlet del marchio Nogs lavori per trasferire anche la produzione da casette dete il centro marchigiano famoso proprio per essere la capitale italiana delle calzature e poi la cronaca controguerra la fa prostituire a suon di botte denunciato un uomo e siamo ad Atri torna la magia antica dei faugni nella notte il corteo dei fasci infuocati prima musica e spettacoli un bus navetta per i visitatori dall'ospedale al centro e poi Pineto l'unità si accende l'albero e raccoglie fondi Roseto degli Abruzzi sicurezza in città di Girolamo incontra il questore di Teramo Enrico De Simone e poi riparato il tubo del gas scoperto Casaltaolero residenti soddisfatti ma segnalano strade in pessime condizioni e poi la storia del giovane talento del calcio venuto dal Senegal e l'associazione sportiva Roseto che deve tesserare Coulibaly il presidente Cerasi da febbraio siamo in attesa di una risposta della federazione andiamo ancora avanti siamo però arrivati dopo la pagina degli annunci alla pagina di cultura e spettacoli allo sport possiamo dunque passare al messaggero per andare a vedere anche in questo caso le pagine delle cronache provinciali dalle nostre quattro province poi nell'ultima parte del nostro appuntamento come sempre sempre ci concentreremo sullo sport per parlare di sport di calcio in particolare e del Teramo e del Pescara Teramo che oggi giocherà in campionato il turno infrasettimanale ospitando in casa al Bonolis la maceratese per quanto riguarda il Pescara ovviamente i riflettori sono puntati sulla trasferta di sabato sulla gara importantissima di sabato prossimo al 18 a Lezio Scida di Crotone ma andiamo per ordine ripartiamo dal messaggero per andare a vedere la seconda pagina la prima l'avevamo già vista in apertura del nostro appuntamento di cronaca regionale ipotesi di voto anticipato scatta la corsa al seggio Chiavaroli da Alessandro di Pangrazio verso una possibile candidatura in Parlamento in rampa di lancio anche Pepe il bilancio poi il cambio di passo nuovo programma ad Alfonso d'ora in poi lavorerò 16 ore al giorno e poi debacle per D'Alfonso ora si tagli lo stipendio lo dice l'esponente di rifondazione comunista Maurizio Cerbo che abbiamo ascoltato nell'intervista nella prima parte del nostro appuntamento e poi giornalismo il quindicesimo premio Polidoro alla giornalista Iolanda Ferrara e poi in basso si parla di economia la ripresa soltanto per i grandi e per chi innova lo stato di salute della regione che esce dalla fotografia di Confindustria che ieri ha presentato l'ultima indagine semestrale e noi vi abbiamo fatto vedere il servizio che abbiamo realizzato siamo alla cronaca la cronaca di Pescara due testimoni smentiscono Davide siamo all'omicidio di Jennifer Sterlecchini il racconto della madre di Jennifer e dell'amica Ludovica insieme ai segni delle botte fanno crollare la versione difensiva dall'autopsia sul corpo della vittima in programma oggi il PM aspetta la chiusura del cerchio contro l'ex fidanzato poi cultura e valori contro la violenza il dolore dell'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco in Abruzzo dati doppi rispetto all'Italia e dunque le nostre risposte e noi andiamo all'altro fatto di cronaca delle ultime ore sempre da Pescara bimba molestata al parco arrestato l'amico di famiglia decisivo l'allarme di una mamma una poliziotta raccoglie le confidenze della piccola ieri come detto vi dicevo prima in precedenza c'è stata la conferenza stampa in questura proprio su questo fatto andiamo a vedere il servizio avrebbe abusato in un parco della zona nord di Pescara di una bambina di 10 anni che gli era stata affidata ad alcuni parenti prima di essere messo in fuga da una donna che aveva assistito all'accaduto all'inizio hanno assistito ad una scena talmente incredibile che non credevano ai loro occhi quando hanno poi realizzato che effettivamente quello che stavano vedendo era quello che stava accadendo in particolare una signora una madre ha avuto il coraggio di affrontare questa persona che stava mettendo pubblicamente le mani addosso ad una bambina di solo 10 anni intervenuta gridando e minacciandolo che avrebbe chiamato le forze dell'ordine solo così la condotta è stata interrotta ai domiciliari è così finito un 51enne incensurato pescarese che deve rispondere del reato di violenza sessuale aggravata per la vittima è risultato importante oltre che il supporto dei consulenti anche quello di due donne poliziotto che hanno ascoltato il suo racconto devo dire che all'inizio non è stato facile perché la bambina proprio per la tipologia di reato non riusciva a capire di essere una vittima ma pensava di essere colpevole infatti quando la situazione è stata interrotta al parco la bambina è corsa via piangendo gridando non ho fatto niente non ho fatto niente poi dopo che abbiamo avuto il primo incontro ho avuto consapevolezza di quello di cui appunto era stata vittima nel secondo incontro subito dopo il primo incontro ho manifestato la volontà poi di ritornare perché doveva confidarci questo segreto lo poteva confessare solo a noi e quindi nel secondo incontro finalmente riuscita ad aprirsi e volevo sottolineare che la bambina poi al termine dell'audizione ha sottolineato più volte il fatto che si era finalmente liberata da un grosso peso sulle spalle ed è stato anche emozionante voglio dire per noi essere riuscite ad ottenere questo risultato ancora cronaca sempre da Pescara un giudice accusato di corruzione questo è il titolo di pagina 41 del messaggero fascicolo d'indagine a campo basso sulla toga Chietina Ciro Marsella presunte tangenti per pilotare un concordato svolta nell'inchiesta sull'imprenditore Carmine De Nicola sotto la lente i rapporti di lavoro con la moglie del magistrato e poi verso un unico processo con la bancarotta Cari Chieti e poi lo studio Acqua su Marte scoperta Pescarese in basso nuovo round nella causa tra Pettinari e D'Alfonso infine ancora cronaca Nassi Nazione a Pescara sequestrata in pieno centro una pasticceria abusiva proseguiamo ancora cronaca dall'area metropolitana di Pescara Napoleone ecco l'uomo che farà rinascere il CNEL e Abruzzese il presidente dell'organo che resiste dopo il no al referendum l'imprenditore di Orsogna si candidò a sindaco di Pescara nel 93 e arrivò terzo e poi per la tangenziale arriva a Matteoli si parla a Montesilvano dell'incontro chiarificatore che riguarderà proprio la tangenziale che collega la parte nord dell'area metropolitana di Pescara con Franca Villa e poi le feste siamo a Montesilvano Cenone Centri Benessere e il Capodanno degli hotel il Palacongressi trasformato per l'occasione in un music festival con tre aree disco e dunque ci si inizia a preparare per le festività di fine anno siamo all'Aquila legge di stabilità spariti 15 milioni salva bilancio all'appello mancano anche i 2 milioni di euro destinati ai comuni del cratere parla il sindaco Massimo Cialente che dice sarebbe assurdo che si pensasse solo al nuovo cratere e abbandonandoci e poi si parla di prossime elezioni sondaggio di Forza Italia con i primi nomi uffici giudiziari dal 12 dicembre la procura generale si insedia nei locali del tribunale sempre all'Aquila e poi in basso decesso dopo infezione sei medici sotto indagine truffa delle auto a giudizio Leli proseguiamo siamo ancora alla pagina dell'Aquila Università Luglio sarà terminato Palazzo Camponeschi con il prossimo anno accademico rettorato e uffici torneranno nella storica sede all'interno del centro storico e poi prevenzione sismica studenti in corteo ieri la protesta all'Aquila e poi in basso tutti insieme appassionatamente per il TSA Teatro Stabile Abruzzese gran successo e replica poi musica e letteratura oggi l'ultimo evento sempre all'Aquila e noi ci spostiamo nella Marsica in Valle Peligna partiamo da Vezzano mercatino di Natale no dei negozianti dovrebbe essere posizionato lungo corso della libertà ma secondo gli esercenti non porterebbe nulla di nuovo e poi Pescasseroli sugli impianti scistici replica la alta quota e poi ancora in Marsica il consigliere gallese investito mentre va in bici è rimasto ferito siamo a Sulmona un coro di bambini per accendere le feste e poi il premio Sulmona a Belpietro è mazzato rando in Marsica e da Vezzano rapina in farmacia si esaminano le telecamere e sempre a Vezzano sigarette fasulle 80 sotto inchiesta andiamo avanti siamo alla pagina di Chieti funivia veloce filo via si va alla gara per stilare i progetti la regione ha inviato al comune la copia delle convenzioni ieri riunione con i tecnici ha messo progetto per la riqualificazione ma non c'è ancora il decreto che lo finanzia e poi carabinieri il generale Nistri Giovanni Nistri visita la legione Abruzzo dell'arma a Chieti l'alto ufficiale premia il maresciallo Lauria arrestò un delinquente armato e poi pagina della provincia partiamo da Lanciano lasce la Trigano leader dei caravan inaugurato il nuovo stabilimento della casa francese che possiede il 25% del mercato europeo ancora Lanciano vicenda depuratori la Sasi dice siamo a buon punto ad Ortona piazza Sant'Ommaso il mercato del giovedì e poi a vasto in basso a fondo pagina così i finti ufficiali hanno truffato sei donne giuravano amore eterno su Facebook ma spillavano denunciati dai carabinieri siamo alla pagina di Teramo del messaggero recupero del teatro romano presentato il progetto vincente sarà aperto al pubblico per eventi e spettacoli grazie al recupero funzionale della cavea un'altra parte resterà invece come museo previsto un laboratorio di storia e archeologia e poi Gran Sasso Teramano votato lo scioglimento in basso isola del Gran Sasso Blitz dei Nasse la struttura della scuola non è a norma e poi la protesta ieri dei cassi integrati dell'Atria che fanno un sit-in davanti il palazzo della provincia siamo alla pagina di Giulianova di Roseto della Val Vibrata eventi cancellati in ritardi e polemica rabbia a Giulianova per il mercatino annullato dal comune in Viale Orsini sempre Giulianova pagamento dell'ici valanga di ricorsi e decreti ingiuntivi a Martinsicuro sequestrate 87.000 luci e giocattoli non a norma Pineto rapina la farmacia bottino da 2.000 euro Roseto degli Abruzzi sicurezza incontro fra il sindaco ed il questore di Teramo Enrico De Simone siamo arrivati alla pagina dello sport dunque possiamo passare proprio e partire dal messaggero per parlare di sport e del pescare in maniera dettagliata biancazzurri che si preparano la gara di sabato prossimo alle 18 l'anticipo dell'Ezio Scida con la formazione pitagorica scontro diretto fondamentale per il proseguo della stagione dei biancazzurri leggiamo dal messaggero Pescara non è ancora visto il vero Ghiomber il difensore dice Crotone un campo molto caldo servirà la stessa cattiveria che abbiamo avuto contro il Cagliari e noi siamo andati ad ascoltare proprio il difensore slovacco tornato in campo domenica scorsa nella gara con il Cagliari Nobert Ghiomber ritornato in campo dopo oltre due mesi dall'infortunio innanzitutto una domanda è d'obbligo come stai? Sto benissimo ho lavorato durante questi due mesi che stavo fuori molto duro ogni giorno e adesso sono molto felice che sono tornato e posso aiutare la squadra avete corso pochissimi rischi nella gara con il Cagliari questo è un dato importante Sì importantissimo ma non abbiamo sbagliato quasi niente questa gara un peccato che non abbiamo fatto più di un gol quindi questo fa male un po' Questa è una fase importante di campionato gare decisive come decisiva sarà quella di sabato prossimo a Crotone? Sarà una una partita importantissima per noi sia per loro sia per noi andiamo a Crotone solo per vincere per tre punti Ecco hai proprio anticipato la mia domanda tifosi che si aspettano questa vittoria Eh sì vogliamo vincere anche per loro perché come abbiamo visto anche l'ultima partita hanno sostenuto la squadra in una maniera grandissima e dobbiamo ringraziare solo così che a Crotone portiamo tre punti a Pescara Crotone scontro diretto incontrerete una squadra che ha un po' gli stessi vostri problemi troverete anche un ambiente caldo Eh forse sì sicuramente sarà un stadio pieno perché sarà un scontro diretto spero che arrivino anche i nostri tifosi e danno una mano anche loro Per chiudere Norbert ultime queste giornate di campionato prima della sosta Crotone Bologna poi Palermo sono gare comunque importanti in cui bisognerà fare molti punti Eh sì e penso che queste partite facciamo in maniera come abbiamo fatto contro i Cagliari anche qualche punti facciamo Parlevo ancora di Crotone Pescara per la sfida di sabato torna il ballottaggio Aquilani Verre e poi caso Spogliarelli Sebastiani Precisa solo una battuta abbiamo tutti massimo rispetto per le donne c'era stata un'intervista del Presidente a Radio 24 che aveva parlato di eventuali spettacoli per festeggiare la salvezza aveva parlato in maniera ironica proprio nel contesto dell'intervista di questa cosa ieri c'è stata la precisazione del Presidente attraverso l'ufficio stampa del Pescara il sito ufficiale della società parliamo invece del Teramo un Teramo rinfrancato all'assalto della maceratese il tecnico Nofri non sarà in panchina a centrocampo Chance per Steffè ancora in dubbio l'impiego di Petrella Teramo che affronterà questo pomeriggio la maceratese nel turno infrasettimanale di campionato e poi vediamo ancora altri titoli di sport della seconda pagina del Messaggero in alto l'Aquila oggi Noman Bartocini e Ganci e Saluti in partenza i tre giocatori arriveranno altri atleti alla corte di Morgia e poi Epifani un gran derby ma non sarà decisivo parliamo ovviamente della Serie D perché domani anche nel Girone F come in tutti gli altri raggruppamenti ci sarà il turno infrasettimanale di campionato gara di cartello all'Aragona con la super sfida tra Vastese e San Nicolò che sono all'inseguimento della capolista matelica e poi il Chieti giocherà ma la crisi è senza fine dunque i neroverdi dovrebbero scendere in campo nel match dell'Angelini con la Iesina ma la situazione è davvero molto difficile e poi calcio a 5 l'Acqua e Sapone perde il portiere Mammarella tripla frattura un dito del piede il numero 1 sarà costretto a fermarsi tornerà in campo soltanto fra un mese e mezzo poi palla a mano farma più Città Sant'Angelo con il Romagna per prendersi il secondo posto ancora calcio di promozione il Giulianova presenta Di Paolo e prepara altri tre acquisti infine il basket basket maschile di Serie A2 Roseto si gode un super mei e pensare che stavo male dice il giocatore Rosetano possiamo passare alle pagine dello sport del centro anche in questo caso ripartendo dal Pescara si parla anche di mercato perché la finestra invernale di gennaio è molto vicina Ver Sampdoria torna di moda e Fiamozzi l'idea per Oddo il direttore sportivo del Pescara Pavone in Brasile per visionare talenti al torneo Sub-20 a Porto Alegre e intanto in basso vedete anche dalle pagine del centro Sebastiani divide le donne con lo spogliarello abbiamo detto anche della precisazione ieri arrivata da parte del presidente con la nota dell'ufficio stampa e poi lo slovacco si racconta vedete pagina 41 Ghiomber io attaccante no ho i piedi di legno abbiamo ascoltato proprio l'intervista del giocatore slovacco arrivato in prestito dalla Roma e poi in vista della gara di Grotone Campagnaro più no che sì i tifosi si preparano alla trasferta di sabato i Pescara Rangers hanno organizzato un Pullman prezzo 50 euro per seguire la squadra nella delicata e difficile trasferta in terra Calabrese andiamo avanti parliamo di sport nazionale almeno in questa pagina un grande Napoli sbanca Lisbona e vola gli ottavi 2 a 1 per gli azzurri in terra lusitana poi Di Bala c'è contro la Dinamo giocherà l'attaccante bianconero nella sfida di Champions League e poi derby di Roma Lulic sotto inchiesta e Strotman punito dal giudice con giocatore della Roma con due giornate di squalifica in basso Formula 1 Wolf dice la Mercedes pensa ad Alonso dopo l'addio di Rosberg e siamo al campionato di Lega Pro oggi alle 14.30 si gioca un'importante gara di campionato Nofri avanti Teramo un'altra vittoria per uscire dalla crisi e noi andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Biancorosso Credo che la squadra in questo periodo abbia fatto delle buone prove abbiamo abbinato delle prestazioni che magari alternate nel corso della partita con il risultato che è la cosa più importante tranne che Reggio Emilia dove la prestazione purtroppo non è stata accompagnata dal risultato quindi dobbiamo essere non dico contenti ma positivi per quello che è il nostro futuro fermo restando che ancora dobbiamo fare tanta strada e dobbiamo comunque sia meritarci con delle prestazioni soprattutto con i risultati una classifica ancora più valida se riusciamo a trovare una quadratura di squadra con almeno 9 undicesimi sarebbe il top ma questo non per il Teramo ma per il stato scritto ma per tutti gli allenatori quando riesci a dare continuità ai giocatori preposti che sanno interpretare in quel momento in modo comunque sia ineccepibile o comunque sia quasi ineccepibile la prestazione devi dare continuità e gli altri devono eventualmente farsi trovare pronti ma è sempre una partita che porta tre punti quindi dobbiamo interpretarla molto bene perché veniamo da un'altra gara difficile dove abbiamo fatto risultato positivo ci deve dare la spinta per poter avere grandi energie che in poco tempo dobbiamo comunque sia ritrovare e dobbiamo dare ripeto sempre grande sostegno alla classifica che necessita di tutto ciò e allo stesso tempo incontriamo una squadra alla nostra portata e giochiamo in casa quindi dobbiamo far valere quelle che sono le nostre qualità e dobbiamo andare forte vediamo dalle pagine del centro le probabili formazioni partiamo dal Teramo 4-3-3 con Rossi in porta Sales Caidi Speranza e Dorazio in difesa Steffè Carraro e Bulevardi a centrocampo in attacco Petrella Sansovini e Di Paolo Antonio ricordiamo che non ci sarà Ilari che è squalificato Maceratese 3-5-2 Forte in porta poi Marchetti Gattari e Perna in difesa centrocampo con Franchini Mestre Malaccari De Grazia e Ventola in attacco Colombi e Turchetta appuntamento questo pomeriggio alle 14.30 allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo arbitrerà il signor Giovanni Airoldi di Molfetta andiamo a vedere anche già che ci troviamo le altre partite che sono in programma in questa giornata di campionato Ancona Padova Bassano Virtus Forlì Lumezzane Mantua Modena Fano Pordenone Albino Leffe Reggiana Feral Pisalò Sant'Arcangelo San Benedettese Sud Tirol Parma e Venezia Gubbio Vediamo altri titoli dalle pagine del Messaggero Serie D De Angelis e De Epifani squalificati ma continuano a beccarsi dopo le polemiche del 91esimo di Castelfidardo San Nicolò e poi Recuperi e Coppa Abruzzo si parla di calcio dilettantistico San Salvo il tecnico Longo Lascia il Pontevomano invece passa a Nardini e domani ci sarà il turno infrasettimanale anche per quanto riguarda il basket di serie B Teramo e Campli giocheranno in casa l'amatori Pescara sarà di scena a Matera andiamo avanti con l'ultima pagina di sport il basket di serie A2 amoroso a Bologna voglio battere Mancinelli Roseto Lala punta la vittoria nel prossimo turno e dice che il successo nel derby con il Chieti ha dato morale alla formazione Biancazzurra e poi in casa della Proger Capitan Sergio dice la Proger pronta al riscatto contro Recanati in basso il rugby di serie A sabato si giocherà il derby tutto aquilano fra Gran Sasso e l'Aquila Bascia dice sarà una gara molto dura fidanza un onore giocare il derby siamo quasi in chiusura ma abbiamo il tempo per andare a vedere visto che stiamo parlando di sport andare a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali che oggi sono in edicola lo faremo tra qualche istante per vedere proprio se ovviamente il nostro iPad non farà i capricci per vedere quelle che sono i titoli dei quotidiani sportivi che sono oggi in edicola vediamo un attimo se possiamo recuperarli direi sicuramente di sì e possiamo partire allora dalla Gazzetta dello Sport la prima pagina eccola qui ovviamente il titolo principale riguarda la Champions League sbancata Lisbona per 2 a 1 Fanta Napoli Caillon Super Martens il Benfica si piega e la squadra di Sarri centra gli ottavi da prima in classifica lunedì ci sarà il sorteggio e poi Juve notte di risposte bloccare Higuain provare Di Bala ma conviene vincere il gruppo Juventus che affronta la Dinamo ma ovviamente c'è il rischio che con il primo posto ci sia un secondo turno quello degli ottavi più difficile e poi si parla di Scudetto al veleno vedete di spalla il dopoderby di Roma Strotman due turni salta Milan e Juventus la Roma accusa e dice è inquietante e all'Inter Gabi Caos gioca o va via Idee Genoa o Bologna e poi vedete in basso altri titoli che riguardano la Champions League il Paris Saint Germain si butta via il Real Madrid si gioca la testa con Cristiano Ronaldo già d'oro e siamo al Corriere dello Sport in alto il dopoderby anche sul Corriere dello Sport Strotman due giornate di stop la Roma accusa che caso salta Milan e Juve soprattutto questi due scontri diretti con le formazioni che ovviamente sono delle dirette concorrenti della Roma e poi Napoli gigante Ottavi è premiato Benfica battuto per 2 a 1 e poi si parla in basso di automobilismo festa Rosberg a Bologna che onore il casco d'oro auto sprint e dal Corriere dello Sport a tutto sport il derby di Zeman in alto parla anche l'ex tecnico del Pescara Tifo Mijailovic sono stato vicino al Toro parla l'allenatore Boemo e poi la Roma attacca la Juve la snob c'è chi piange e chi champion Strotman squalificato per due turni ma la Juventus pensa invece all'impegno di Champions League e poi in basso brilla la luce del Napoli con lo show dei partenopei che vincono per 2 a 1 in Portogallo sul campo del Benfica e siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno di mercoledì 7 dicembre con Mattino 6 grazie come sempre per la vostra cortese attenzione vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi della giornata con le tre edizioni del TG6 alle 14 alle 19 e alle 23 grazie ancora e buon proseguimento di giornata a tutti e buon proseguimento di giornata a tutti e buon proseguimento di giornata a tutti Grazie a tutti